Non ha lesinato sorpresa il recupero del ventesimo turno di Serie C, seconda sconfitta in tre giornate per la capolista regina, che si è fatta sorprendere in casa dalla Virtus Franca Villa. Dopo la rete di Dennis all'undicesimo, gli Amaranto hanno subito la rimonta dei pugliesi, prima Risolo con un preciso sinistro dall'altezza del dischetto del rigore, poi la freddezza sottoporta di Di Cosmo, che con un pregevole colpo sotto ha regalato tre punti d'oro alla Virtus. Hanno approfittato del passo fasso della capolista, il Bari e la Ternana. Ai Galletti è bastata la rete di Simeri per superare, non senza qualche difficoltà, la Sicula Leonzio e riportarsi a meno sede al primo posto. Largo è invece il successo degli Umbri, che si sono sbarazzati di un Rieti impreciso e distratto, con un secco 3-0. Vantaggiato ha aperto le danze, tutto solo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sinistro a giro invece per il 2-0 di Partipillo, che ha approfittato di una difesa degli laziali da 4 in pagella, e soddisfazione nei minuti di recupero anche per Damian, che ha suggelato la serata perfetta delle Fere. E' bastata una rete di Azios Manovic, abile a sfruttare un rinvio non perfetto di Greco, al Monopoli. Palla all'incrocio e blitz sul campo della Vibonese per i Pugliesi, che continuano la loro corsa nella zona alta della classifica. 1-0 anche per il Teramo, che si è affidato al solito Bombardi, per aggiudicarsi uno dei match di cartello della giornata contro il Catanzaro. Il destro a incrociare dell'attaccante bianco-russo non ha lasciato scampa ai calabresi. Al secondo cappavo di fila, pareggi a reti inviolate per Casertana Potenza e Paganese Viterbese, mentre può festeggiare il Piceno, che piazza un successo importante contro la Cadese, dopo il sostanziale equilibrio dei primi 60 minuti, con Zaffagnini di testa a sbloccare il punteggio per i Lucani e Russotto, che a tu per tu compare non si è fatto pregare per fissare l'1-1. Ci hanno pensato Pitarresi e Santaniello a siglare le reti del 3-1 per il Rosso-Bru nell'ultima mezz'ora. Piatto al volo da limite d'aria per il centrocampista, destro a incrociare, da pochi metri per il numero 9, che sigilla una vittoria pesante per i prossimi avversari dell'Avellino. Ha sudato le proverbiali sette camicie il Biscegne per superare il render. Un colpo di testa di Alvaro Montero ha regalato ai Nerazzuti tre punti importanti per salire al quarto ultimo posto in classifica.